SIGEP 2023 ci troviamo allo stand di Caffè Illy, il caffè di Trieste che è ormai arrivato a superare i 300 milioni di fatturato con una presenza universale, direi è presente davvero in tanti paesi in tutto il mondo. Siamo in compagnia del maestro pasticciere Luigi Biasetto, più volte campione del mondo. Luigi bentornato. Bentrovati soprattutto, è un piacere sempre poter dialogare con te e con i nostri teleascoltatori. Allora perché tu sei qui oggi allo stand di Illy Caffè? Ma è una storia che dura da ormai più di 25 anni con la Illy, è sempre una questione di valori, quando i valori sono gli stessi e quando c'è in qualche modo una condivisione di quelle che sono le cose in cui crediamo, è facile incontrarci, è facile parlare la stessa lingua, non è una questione di colore di pelle o di linguaggio, sono proprio i valori che determinano spesso i rapporti che possono avere le persone. Con la famiglia Illy c'è un rispetto e un'amicizia reciproca che dura da tanti anni ormai e noi abbiamo molto da imparare un'azienda così importante che esporta credo in più di 173 paesi, quindi veramente un'azienda che ha saputo portare il made in Italy facendo il make in Italy, cioè non solo nato in Italia ma fatto in Italia ed esportarlo in tutto il mondo. L'eccellenza italiana lascia nel cibo sempre un ricordo positivo e quindi lavoriamo cercando da parte nostra anche ad ispirarci molto di quello che sono le tante idee che ha la famiglia Illy, il gruppo Illy e quelli che sono comunque le direzioni, il tracciato di quello che può essere una filosofia condivisa. Beh allora a questo punto parlando proprio di creatività posso chiederti in che modo nascono le tue creazioni, tu realizzi dei dolci che sono piccole opere d'arte, occorrono ore e ore e ore per realizzare e per affinare la tecnica con cui poi vai a perfezionare questi piccoli gioielli, ma come nascono? È anche un consiglio per coloro che fanno da mangiare a casa o per i miei stessi colleghi in qualsiasi settore. Prima di tutto si parte dalla materia prima, la materia prima è indubbiamente fondamentale, noi cerchiamo oggi più che mai oltre ad essere una materia prima italiana ma cerchiamo una materia prima naturale. Cosa significa naturale? È una parola che viene anche secondo me oggi utilizzata, sfruttata, violentata sotto molti punti di vista. Quindi cerchiamo dei produttori che abbiano un'idea molto chiaro di quello che è l'ambiente. È per questo che noi amiamo molto incontrare tutti i nostri produttori con una certa frequenza. È così che io prendo il limone ad Amalfi ma perché conosco la famiglia Deriso e so come lavorano, conosco i loro valori, il rapporto che hanno con i fornitori, con i contadini, con i loro dipendenti, con i loro clienti. Ecco per noi andare a vedere veramente dietro le quinte e capire quali sono i principi sui quali si fondano appunto i successi di un'azienda sono fondamentali, quindi materia prima. Poi cerchiamo rispetto a quello che è spesso una nostra intuizione di creare dei prodotti che seguono un po' anche le tendenze del mercato ma valorizzino soprattutto la materia prima. E di unire con la conoscenza, con le competenze che abbiamo, di unire i sapori. Questa è una cosa un pochino più complicata. Cioè fare in modo che i sapori siano in equilibrio e a volte sotto alcuni punti di vista spinti cioè un pochino più acido, un pochino più amaro, un pochino più dolce, un pochino più salato, un pochino più fresco. Quindi mettere tutto questo insieme deve far sì che il degustatore senta, percepisca qualcosa di unico. E allora Luigi, per tutti coloro che sono dall'altra parte sentono parlare delle tue creazioni e vogliono magari assaggiarle. Qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso cui poter entrare in contatto con te, con il tuo staff e o l'indirizzo del sito dove poter ammirare questi gioielli? Sì, bisogna prepararsi a un viaggio, quindi è www.pasticceria.it ed è un viaggio all'interno del proprio cuore, dei propri ricordi e quindi lasciatevi guidare, vedrete che è molto semplice e poi abbiamo uno staff che è molto preparato nel guidarvi, nell'accogliervi e anche nel darvi consigli giusti. Grazie, grazie per il contributo, reclamano da quest'altra parte la tua presenza e il tuo turno qui allo stand di Illy Cafè. Ciao Luigi, grazie ancora. Ciao, grazie, buona degustazione a tutti.